Ben ritrovati su Sicilia 24 per un nuovo appuntamento con Spazio e Notizia. Apriamo parlando dell'emergenza migranti sempre in primo piano a Lampedusa. Altri sbarchi nelle ultime ore a Lampedusa dove con 8 diversi barchini sono giunti 472 migranti. Ieri con 20 imbarcazioni sono invece arrivati 925 extracomunitari. All'hotspot di Contrada in Briacola sono al momento presenti quasi 2.800 persone a fronte di poco meno di 400 posti disponibili. La prefettura di Agrigento d'Intesa con il Viminale per provare a tamponare l'emergenza ha disposto il trasferimento di 440 migranti ospiti dell'hotspot. Il gruppo verrà imbarcato sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle. Sempre per la giornata di oggi sono programmati altri due trasferimenti con navi militari che potranno imbarcare 600 persone ciascuna. Sui natanti bloccati durante la notte dalle motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza non c'erano, come avveniva nelle scorse settimane, poche decine di migranti, ma addirittura ci sono stati sbarchi con 131, 87, 133 e 138 persone, fra cui donne e bambini. Cambiamo argomento, continuiamo a parlare di cronaca e ci spostiamo nel Siracusano. I carabinieri del nucleo radiomobile di Noto hanno tratto in arresto a Rosolini due fratelli di 29 e 25 anni, entrambi con precedenti di polizia, trovati in possesso di sostanze stupefacenti. A seguito di una perquisizione, i militari dell'arma hanno rinvenuto complessivamente circa 100 grammi di droga tra cocaina, hashish e marijuana, sostanze occultate all'interno del garage adiacente all'abitazione dei due giovani. Espletate le formalità di rito, gli arrestati sono stati posti ai domiciliari, così come disposto dall'autorità giudiziaria di Siracusa. Notizia da Catania, in due a bordo di un'auto scappano alla vista della polizia stradale. stradale ne nasce un inseguimento e alla fine poi i due vengono bloccati e denunciati. Tutti i dettagli nel servizio. Nell'ambito di servizi di vigilanza, personale della sezione di Catania della polizia stradale, mentre transitava lungo la tangenziale, ha notato procedere lungo la corsia di emergenza un'autovettura con a bordo due soggetti, i quali, incuranti della presenza dell'auto della polizia, proseguivano tranquillamente la marcia. Gli operatori, azionati dispositivi luminosi e sonori, hanno richiamato l'attenzione del conducente che, vistosi scoperto, per eludere il controllo ha cercato di immettersi repentinamente nella corsia di sorpasso. Una volta raggiunto, ha fatto credere di voler accostare sulla corsia di emergenza quando improvvisamente, incurante del traffico intenso, ha accelerato la marcia, allontanandosi a forte velocità e dando vita a un inseguimento. All'altezza dello svincolo per Mister Bianco è stato affiancato dall'auto degli agenti, ma invece di fermarsi ha tentato di speronarli con una manovra improvvisa, continuando poi la sua corsa tra i veicoli. L'inseguimento si è concluso con la collisione tra i due mezzi, con il fuggitivo che, dopo aver centrato l'auto degli operatori, si è dato alla fuga tra le campagne adiacenti, facendo perdere le proprie tracce. Il passeggero dell'auto pirata, intanto, si era posto alla guida del veicolo, cercando di riprendere la marcia e di allontanarsi, ma è stato prontamente bloccato. All'interno del mezzo è stata rinvenuta una gabbietta con un cardellino e un telefono cellulare, che ha permesso di risalire al fuggitivo, il quale è risultato essere un pluri pregiudicato. Altri sei volatili, tra cardellini e canarini, sono stati rinvenuti a seguito di una perquisizione domiciliare. Costatata l'assenza di anelli di identificazione, sono stati liberati. I due sono stati invece denunciati per resistenza pubblico ufficiale, e il passeggero anche per possesso ingiustificato di animale di specie protetta. Due giovani rubano un'auto a Messina e vengono poi beccati dagli agenti della polizia stradale a Catania. Uno dei due ladri è stato anche tratto in arresto. Tutti i dettagli nel servizio. Con l'aiuto di due chiavi modificate, due giovani hanno asportato un'autovettura parcheggiata all'interno di un centro commerciale di Messina. Ignari della presenza dell'antifurto satellitare installato a bordo del veicolo, che ha permesso di monitorare gli spostamenti, i due sono stati bloccati dopo aver percorso l'autostrada A18 alla barriera San Gregorio a Catania, dove gli agenti della polizia stradale, a seguito della diramazione della nota di ricerca, si erano posizionati al fine di intercettarli. Sul posto, in ausilio, è raggiunta anche una volante della questura di Catania, anch'essa impegnata nella nota di ricerca. A bordo dell'auto si trovavano i due giovani, che sono stati bloccati e perquisiti. Sono state così rinvenute le chiavi, di cui una ancora inserita nel quadro di accensione, chiaramente modificate e utilizzate per l'apertura del mezzo. I due, entrambi privi di documenti, sottoposti a rilievi fotodattiloscopici, risultavano annoverare diversi precedenti penali. Uno di essi, in particolare, risultava sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, per cui è scattato l'arresto immediato. Entrambi gli individui, inoltre, sono stati denunciati per il furto dell'autovettura, che è stata affidata a un custode giudiziale in attesa della restituzione alla vente diritto. Traffico illecito di rifiuti, sono quattro le persone tratte in arresto dai carabinieri nel Nisseno. Sono state sequestrate due discariche abusive a Sommatino e Delia. Vediamo il servizio. I carabinieri di Caltanissetta hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per quattro persone residenti a Sommatino e Delia, indagati per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti. L'attività di indagine, iniziata nel 2021 con il coordinamento della procura di Caltanissetta, ha consentito di individuare un'attività organizzata di raccolta e stoccaggio di un'ingente quantità di rifiuti di diverso genere in un'area di circa 3.000 metri quadri nel comune di Sommatino e nel comune di Delia. I due siti, che sono stati sequestrati, sarebbero stati trasformati in depositi non autorizzati per lo smaltimento. Gli investigatori hanno analizzato la modalità di raccolta di consistenti rifiuti urbani, rifiuti speciali, rifiuti urbani pericolosi, tra cui arredamenti, elettrodomestici, autovetture destinate alla rottamazione che quotidianamente gli interessati ritiravano, ricevevano da privati e aziende insistenti sul territorio. Nelle aree interessate, gli indagati avrebbero poi posto in essere una vera e propria attività di selezione per individuare quali materiali destinare alla successiva commercializzazione ad altre ditte e quali, invece, accantonare definitivamente nel sito, provvedendo, talvolta, al loro smaltimento mediante combustione, causando il rilascio nell'atmosfera di fumi potenzialmente tossici per la salute. Il tutto in assenza dei prescritti titoli autorizzativi. Parliamo ora di un altro tragico incidente avvenuto sulle strade siciliane. C'è un'altra vittima, si tratta di una trentenne di vittoria, Diego Lauria, questo il suo nome. Il grave incidente è avvenuto sulla statale 115, nel tratto che collega Rosolini a Noto. Siamo quindi nel Siracusano. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con un'auto guidata da una donna, la quale viaggiava in direzione opposta verso Rosolini. Insieme a Diego c'era una ragazza, anche lei trentenne, di Piazza Armerina, trasportata in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. Sul luogo dell'incidente, oltre ai sanitari, si sono presentati anche la Polizia Municipale e i Carabinieri per effettuare tutti i rilievi del caso. Rilievi che certamente saranno d'aiuto agli inquirenti per capire la dinamica del tragico incidente. Restiamo in tema. Un altro tragico incidente, invece, avvenuto nei giorni scorsi nella Messinese. Si tratta di una donna che è stata investita l'autore di questa tragedia, il conducente di un'auto che è anche scappato senza soccorrere la vittima è stato tratto in arresto dai carabinieri. Il servizio. Un uomo già noto alle forze dell'ordine è stato tratto in arresto dai carabinieri della Compagnia di Milazzo in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Barcellona, Pozzo di Gotto. È ritenuto responsabile di omicidio stradale aggravato dallo stato di ebrezza alcolica e fuga. Il tragico incidente avvenuto lo scorso 9 febbraio a Giammoro sulla strada statale 113 è costato la vita a una donna di 57 anni. I carabinieri della stazione di pace del Mela sono intervenuti dopo il sinistro effettuando i rilievi stradali e analizzando i sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. L'uomo è stato quindi individuato in un comune vicino dopo essere fuggito dal luogo dell'incidente senza prestare soccorso alla vittima. Sottoposto a esami tossicologici il soggetto è risultato positivo all'accertamento alcolemico con un livello di etanolo ben superiore ai limiti consentiti dalla legge. L'arrestato dopo le formalità di rito è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Cambiamo ancora argomento parliamo dell'operazione stazioni sicure e dei controlli effettuati dalla polizia ferroviaria ovviamente anche in Sicilia vediamo il servizio 680 persone controllate 131 bagagli ispezionati 68 agenti impegnati in 57 scali ferroviari della Sicilia sono questi i risultati conseguiti dal compartimento polizia ferroviaria per la Sicilia durante la seconda giornata dell'anno dedicata a stazioni sicure organizzata a livello nazionale dal servizio polizia ferroviaria nella giornata del 15 febbraio scorso gli operatori della Polfer anche con l'ausilio delle unità cinofile delle questure di Palermo e Catania hanno effettuato controlli straordinari nei maggiori scali ferroviari della regione sui treni e in un deposito bagagli al fine di incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario l'operazione si è svolta sotto il coordinamento della sala operativa della Polfer che ha dislocato le pattuglie equipaggiate con metal detector e palmari in base al flusso di passeggeri in transito e verso le aree maggiormente sensibili a Catania i poliziotti impegnati nel servizio hanno elevato 28 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada nei confronti di automobilisti indisciplinati nonché 5 sanzioni amministrative nei confronti di esercizi commerciali non in regola con le normative vigenti Parliamo di calcio con il Palermo che oggi sfida al Barbera la capolista il Frosinone grande attesa per questo big match alla vigilia della partita ha parlato come di consueto mister Corini in conferenza stampa e allora sentiamo le parole del tecnico del Palermo Indubbiamente il Frosinone sta facendo un campionato a parte una continuità incredibile basti pensare che dall'ultima sconfitta tra l'altro contro il Genoa ne ha vinte 6 consecutivamente dimostrando una solidità incredibile vincendo varie tipologie di partite e questo certifica che quando una squadra è vincente sa leggere dunque devo fare i complimenti a Fabio che ha fatto un lavoro splendido dall'anno scorso l'ha portato avanti quest'anno e stanno facendo un grande campionato sicuramente hanno l'attitudine ad attaccare con 3-4 giocatori perché anche quando Garritano gioca da interno va a fare il trequartista ha giunto hanno punte esterne molto veloci molto tecniche da Insigne a Caso a Baez a Bocci ci sono giocatori veramente importanti anche se hanno perso un centrocampista come Lulic hanno recuperato con E la settimana scorsa che ha giocato 30 minuti e recuperano Boloca che è un giocatore molto importante per loro di conseguenza detto questo sul valore della squadra che andiamo ad affrontare che la classifica certifica sicuramente le riflessioni in questa settimana e il lavoro è stato importante per capire strategicamente come iniziare la gara rispetto al fatto che abbiamo due essenze dovute alla squalifica che un giocatore come Matteo l'avete visto nella partita in casa che la regina è molto importante perché è un giocatore anche dinamico e forte e quando c'è bisogno di scivolare sul lato sulle punte esterne regge molto bene l'uno contro uno e dunque detto questo la riflessione che ho fatto è su come stanno i miei giocatori chi è più pronto secondo me da punto di vista anche atletico e fisico per il percorso da cui viene e qui faccio i nomi di Graves e di Buttaro e di conseguenza costruire una squadra che abbia un equilibrio e che sappia e che abbia le caratteristiche per poi andare a giocare la partita che pensiamo di fare per mettere in difficoltà loro come ho detto dopo Genova non ci ha accompagnato il risultato anche se la prestazione è stata fatta con grande personalità e dobbiamo lavorare sul perché non abbiamo fatto risultato e cosa dobbiamo fare in più e come dicevo spesso è uno stato mentale che è una spinta continua al miglioramento che vogliamo mettere dentro e soprattutto col fatto che la nostra tifoseria i nostri tifosi saranno presenti forse ancora di più rispetto all'ultima partita è un segno che stanno apprezzando questo sforzo e noi dobbiamo meritarcelo ogni volta lavorando bene forte e facendo vedere in campo quanto vogliamo fare il meglio possibile per il momento è tutto possiamo chiudere questo appuntamento con Spazio Notizia grazie a tutti grazie a tutti